Gli ospedali italiani dovranno attendere fino a giugno del 2026 per vedere ammodernato il loro parco macchini ormai obsoleto. Il maxipiano per sostituire oltre 3.100 grandi aperichi infatti è stato rinviato di due anni a causa della revisione del PNNR richiesta dall'Italia, approvata da Bruxelles. La tesalità che risonanze magnetiche di ultima generazione impatterà su molti pazienti con diagnosi meno accurate e precise, più esposizione alle radiazioni, minore velocità di esecuzione, referti non informatizzati.